Lo scambio interculturale tra il Vallo di Diano e il resto del mondo continua con successo e partecipazione. Da anni il centro locale del Vallo di Diano di Intercultura, presieduto da Ophelia di Candia, sta portando ragazzi provenienti da ogni parte del mondo a vivere e studiare nel territorio valdianese, grazie anche alle numerose famiglie che continuano ad aggregarsi all'iniziativa storica nata nel dopoguerra da un gruppo di volontari che negli scambi culturali avevano intravisto con lungimiranza l'enorme potenziale di crescita della persona umana. Ophelia di Candia ha portato l'iniziativa nel territorio valdianese e lo ha fatto raccogliendo un grande successo di partecipazione con centinaia e centinaia di ragazzi del Vallo di Diano che in questi anni hanno avuto la possibilità di trascorrere diversi mesi all'estero, accolti da famiglie locali, vivere secondo le loro abitudini, imparare la lingua e studiare nelle scuole straniere. Un discorso simile per tante famiglie valdianesi che aderendo al progetto di intercultura hanno accolto nelle loro case come figli tanti ragazzi provenienti da terre lontane aiutandoli a comprendere le abitudini italiane e allo stesso tempo imparando ad apprezzare le loro abitudini e le loro tradizioni. Un progetto che continua anche quest'anno e che lo scorso venerdì ha salutato cinque nuovi ragazzi in partenza per il progetto di intercultura. Valigia alla mano per Antonio e Palma Alliegro in partenza per l'Irlanda. Ilaria Lobosco invece vivrà una lunga ed indimenticabile esperienza in Thailandia. Chiara Di Domenico parte alla scoperta della Russia mentre Vincenza Barra vivrà una bellissima esperienza in Brasile. Tutti accolti da famiglie speciali che così come le loro famiglie in Italia gli faranno sentire a casa e gli faranno conoscere un nuovo mondo e le tradizioni locali. Venerdì scorso presso la struttura del Dolce Vita di Sala Consina sono stati in tanti a salutare i ragazzi in partenza con una festa partecipata dove erano presenti accanto alla presidente di intercultura anche tutto lo staff impegnato nell'organizzazione del progetto e le famiglie dei giovani. Anche l'amministrazione comunale di Sala Consina ha voluto salutare i cinque giovani in partenza con il sindaco Francesco Cavallone, l'assessore alle politiche giovanili Francesco Spinelli e la consigliera Rosa Melillo che complimentandosi con gli organizzatori hanno augurato un buon viaggio ai ragazzi con l'ospicio di tornare con le valigie ricche di esperienze culturali indimenticabili e che possano mettere al servizio del territorio.